Hai appena comprato un barbecue a gas? Vuoi creare nuovi piatti ma le ricette sono troppo complicate? Guarda cosa provo a realizzare io Ricette semplici per studiare tutti i vostri commensali Gli ingredienti sono Patate Bacon Formaggio fontina Olio extravergine d'oliva Sale Paprica dolce Pepe nero macinato fresco Accendiamo il barbecue e lo facciamo andare al massimo per circa un quarto d'ora In questo modo elimineremo i residui delle precedenti cotture e scalderemo il barbecue Ora laviamo ed asciughiamo bene le patate Ora proviamo a tagliare le nostre patate a ventaglio Per fare ciò ci aiuteremo con uno stecchino di quelli lunghi e lo infileremo la parte sotto Poi con un coltello cerchiamo di fare i dettagli a una distanza di circa mezzo centimetro l'uno dall'altro Ora è il momento di ungere le nostre patate con dell'olio d'oliva Facciamo arrivare anche all'interno dei tagli Poi aggiungiamo sale Pepe Pepe E paprica Spazzoliamo la griglia E impostiamo il metodo di cottura indiretto Io avendo tre fuochi spegnerò il fuoco centrale e abbesserò i due laterali Cercando di mantenere una temperatura all'interno del mio barbecue intorno ai 200 gradi Ora inseriamo le nostre patate al centro del barbecue Sopra al fornello spento E aspettiamo che si aprano Nel frattempo tagliamo a metà sia le pettine di formaggio Che quelle di bacon Ora che si sono aperte Mettiamo un taglio sì e un taglio no Il nostro bacon L'altro servirà per mettere il formaggio Rimettiamo le nostre patate in cottura Sempre a 200 gradi E facciamo cuocere il bacon E facciamo cuocere il bacon Ora che si è cotto anche il bacon Aggiungiamo il formaggio E le parti che avevamo lasciate libere prima E facciamo sciogliere bene il formaggio E facciamo sciogliere bene il formaggio Wow ragazzi La patata come non l'avete mai assaggiata Un perfetto connubio tra patata, bacon e formaggio Perfetto per accompagnare qualsiasi tipo di preparazione al barbecue Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale Prevediamo gli ingredienti Prevediamo gli ingredienti Grazie a tutti Grazie a tutti